Il Pescara Pallannuoto ha rotto il ghiaccio nel Serie A1 femminile, ha rotto il ghiaccio contro le campionesse d'Italia che venivano da 28 risultati utili consecutivi. Ha vinto il plebiscito Padova ovviamente e ha vinto anche in modo piuttosto netto 17-4 con questi parziali 6-0, 4-0, 2-2, 5-2. Ma parliamo con il coach del Pescara, Tommaso Cianfrone, c'è da ripartire ovviamente da questi ultimi due tempi perché le tue giocatrici avevano di fronte una corazzata quasi invincibile. Al terzo tempo ho detto durante un time out che dobbiamo ripartire da quel tempo, dal terzo tempo, dal quarto tempo per voglia di fare soprattutto. Era quasi impossibile fare il risultato oggi, abbiamo rotto il ghiaccio, sono anche contento di aver giocato contro una squadra di giocatrici nazionali in tutti i ruoli. Però sono contento perché se si riparte dal terzo e quarto tempo credo che si possa fare davvero un bel campionato. In gol sono andate in Vernizi a Pilongo, poi due volte Ranalli, già la settimana prossima vi aspetta in trasferta una partita di quelle importanti. L'emozione è da mettere alle spalle a Milano, l'emozione è da mettere alle spalle subito, la Batosta perché si è trattata, bisogna cancellarla, fare esperienza di tutto quello che è stato fatto oggi e ripartire subito a Milano perché adesso cominciano a valere i punti, a contare i punti. Avete visto che differenza c'è tra la Serie A2 e la Serie A1, certo incontrare queste squadre così forti all'inizio può essere anche un vantaggio a volte. Oggi non lo è stato ma sabato prossimo c'è uno scontro che si potrebbe definire forse diretto. Sì, sulla carta è diretto, non è promossa come noi, l'anno scorso era in A2, abbiamo capito che cos'è la 1, forse l'abbiamo capito con i campioni d'Italia, era meglio capirlo dopo, però siamo contenti, almeno io sono contento della prestazione della ragazza, soprattutto il terzo e quarto tempo. Grazie a tutti.